Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherina in questa nuovissima reaction ebbene ragazzi quest'oggi sempre per variare un pochettino sul tema videoludico e quindi ritornare invece sul tema cinema e nello specifico sul tema disney e in questo caso ancor più nello specifico sul tema live action disney quest'oggi ragazzi andremo a guardare insieme il trailer di Mufasa il re leone ebbene sì questa cosa la sapevamo da un bel po' io non penso di aver guardato niente prima di oggi riguardo Mufasa però appunto sapevamo da diverso tempo che sarebbe da diverso tempo sì davvero da diverso tempo che la disney stava lavorando ad un live action riguardo Mufasa quindi un live action che fosse un prequel al re leone che quindi narrasse la storia del padre di simba sarebbe a dire Mufasa guarda caso e che dire ragazzi che dire si potrebbe fare un discorso anche abbastanza lungo riguardo i live action della disney ne ho parlato anche nella reaction al trailer di Biancaneve quindi come sempre spero di non dilungarmi troppo ragazzi però 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 questa dei live action disney è una questione parecchio discussa specialmente nell'ultimo periodo specialmente dopo gli ultimi live action della disney tanta veramente tanta tanta gente ragazzi si sta lamentando proprio di questi film di questi live action ma io credo che già ragazzi da quando la disney ha iniziato a sviluppare questa idea dei live action che la gente non ne sia tanta entusiasta sin dai primi eh ok mi riferisco sin dai primi live action la gente non ne era estremamente entusiasta appunto perché ragazzi la prima domanda che sorge spontanea è perché perché mi devi fare un film realistico tra molte virgolette tra l'altro perché appunto come ben sappiamo ragazzi tipo l'85 90% di questi film è in cgi perché mi devi fare un film reale di film animati che già andavano bene così e funzionavano benissimo così perché disney perché perché ragazzi ovviamente la disney vuole cercare in ogni modo di fare più soldi possibili il problema è che secondo me con questi live action ragazzi sta perdendo più che guadagnando perché viste certe scelte tanta gente queste cose non se le fa andare giù e quindi mi sembra che la disney appunto negli ultimi tempi abbia perso non pochi milioni di dollari facendo questo tipo di investimento però insiste la disney insiste e cerca comunque ovviamente ragazzi in ogni modo di riproporre prodotti che hanno funzionato tanti anni fa di riproporli in chiave moderna spesso facendo delle cagate veramente colossali ragazzi diciamoci la sincera verità perché bisogna dirsi la sincera verità e parlo ragazzi avendoli guardati tutti eh apriamo parentesi perché magari poi arriva qualche genio che dice ah vedete non li hai visti però parli a prescindere perché io li ho guardati tutti ragazzi non me ne sono persa uno nonostante non fossi contenta l'idea di guardarli gli ultimi soprattutto gli ultimi specialmente diciamoci la sincera verità un'altra volta però quando uno ragazzi poi deve giudicare non giudicare deve commentare un qualcosa deve farlo con una buona ragione tra virgolette quindi non parlare come si fa di solito ragazzi prima che esca un prodotto e buttargli merda addosso a prescindere no perché si è degli idioti facendo questo però se una volta che l'hai visto non ne sei stato contento e secondo te certe cose non funzionavano ok ed è quello che ho fatto io ragazzi perché in effetti ho fatto anche recensioni degli ultimi live action non di tutti ovviamente ma li ho guardati tutti e devo dire che alcuni ragazzi sono cagate veramente epocali non sto parlando per esempio delle action di pinocchio assolutamente no la parentesi che apro e chiudo e quindi in questo caso ragazzi visto che già avevano fatto il live action del re leone del quale appunto io avevo fatto una recensione perché ero andata addirittura a guardarlo al cinema ovviamente avendolo già sfruttato il re leone però visto che il re leone ragazzi è un titolo che tira attira veramente tanto come poterlo sfruttare un altro po inventiamoci qualcos'altro facciamo un prequel parli perché non parliamo della storia del padre di simba così a caso che comunque un personaggio che purtroppo ragazzi sappiamo benissimo c'è poco nel film animato e sappiamo tutti perché non ne parliamo perché mi si riaprono vecchie ferite quindi ci inventiamo qualcosa di nuovo che potrebbe anche starci potrebbe essere interessante non voglio dire niente andiamo a guardare il trailer e poi ne parliamo è tempo che io ti narri una storia la storia di un cucciolo non molto più grande di te quindi tanto per chiarire noi non siamo nella storia in tante storie ci siamo tutti racconta una di quelle molto prima che diventassero leggende mufasa e il principe meglio noto come scar divennero fratelli ciao come ti chiamo mufasa ti avevo detto di aspettarmi non possiamo lasciarlo qui le regole sono regole taca il re non accoglierà mai un randaggio non sono un randaggio sono solo perso noi non ci accompagniamo con gli estranei taca è il futuro re dobbiamo proteggere la stirpe ma papà io gli ho salvato la vita a volte sento un essenza una lieve traccia nel vento e profuma di casa poi sparisce tu e taca insieme questa è casa andate voi due trovate il vostro posto nel cerchio della vita il cerchio si è spezzato ci sarà un solo re leone mufasa scappa dobbiamo combattere uniti se combattiamo moriremo tanto per chiarire non avrei mai voluto essere qui sono qui per proteggere te fratello ma è stata una pessima idea siamo vivi grazie a me siamo salvi stavi dicendo allora 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 ragazzi la mia faccia ovviamente penso non stia esprimendo grande entusiasmo in questo momento esce a dicembre non lo andrò a guardare al cinema lo dico già da adesso per lo meno non credo perché ragazzi non lo so non lo so c'è qualcosa non mi comincia allora ovviamente il film è tutto in cgi come lo era stato il primo live action su re leone ci sta è una cgi comunque di altissima qualità ragazzi su questo non c'è dubbio sul fatto che ci sia un lavoro impressionante dietro su questo non c'è dubbio ritorniamo allora ragazzi ci sono diverse cose che non mi garbano non mi garbano allora in primis come era successo ragazzi nel live action del re leone ovviamente tu mi stai portando sullo schermo animali realistici ok quindi animali che ovviamente espressività ragazzi ne hanno poca questa era una cosa che avevo detto se non sbaglio anche appunto nella recensione al live action del re leone quindi per quanto riguarda i film animati ragazzi nei film animati comunque gli animali li rendono rendevano espressivi perché comunque gli mettevano le sopracciglia li davano una mobilità facciale che faceva sì che appunto fossero estremamente espressivi se mi fai un live action con degli animali che ovviamente devono essere il più possibile realistici non puoi fare la stessa cosa quindi espressività fino a una certa però ripeto giustamente sono animali che devono essere realistici come pretendi che siano espressivi va bene ok però passiamo oltre ragazzi non ho ben capito come è stata impostata tutta questa cosa facendo riferimento comunque al film animato perché perché a quanto pare si capisce da questo trailer Mufasa è un trovatello quindi non appartiene effettivamente alla stirpe reale tra molte virgolette nel senso non è figlio di re e adesso poi non so cosa si scoprirà cosa non si scoprirà fatto sta che Mufasa è un trovatello che tra l'altro quasi non viene neanche accettato all'inizio cosa che è anche un po' normale dal punto di vista proprio naturale ragazzi cioè proprio realistico parlando dei leoni che sappiamo benissimo che a volte i leoni uccidono i cuccioli per far sì che sia la propria stirpe a continuare come dice tra l'altro il leone in questo trailer dobbiamo proteggere la nostra stirpe cioè dal punto di vista naturalistico è proprio giusto e corretto quindi il fatto che lui tra l'altro poi venga accettato vabbè volemose bene è un film vabbè ci può stare però questa cosa a me mi stranisce perché quindi tra l'altro Scar che viene chiamato Taka quindi non si chiama Scar è evidentemente un soprannome che gli viene dato dopo da un certo momento in poi anche se sinceramente a me l'idea che si chiamasse Scar piaceva quindi qua viene chiamato Taka vabbè a quanto pare Scar e Mufasa non sono fratelli di sangue quindi perché Scar gli dice ho sempre desiderato un fratello gli ho salvato la vita che bello volemose bene diventiamo fratelli quindi non sono fratelli di sangue cosa che invece sembrava fosse così nel film animato perché c'è un certo momento ragazzi in cui a inizio film Scar parlando a Mufasa gli dice per quanto riguarda la forza fisica non sono così stupido adesso faccio una specie di riassunto da mettermi contro di te l'impronta genetica dice più o meno non ha funzionato allo stesso modo così dice nel film animato cosa che fa intendere che ragazzi sono fratelli di sangue ma comunque nonostante questo ovviamente sono un po' diversi come è normale che sia fondamentalmente no perché ragazzi fratelli sorelle non siamo tutti uguali anche dal punto di vista proprio fisico che ci si può assomigliare ma ci possono essere caratteristiche estremamente diverse e quindi nel film animato veniva detta questa cosa a Rascar che faceva intendere che effettivamente fossero fratelli di sangue ragazzi quindi fossero figli degli stessi genitori e quindi qua vengono e mi dicono sta cosa rimango un attimino stranita ok non lo so ragazzi poi tutta questa cosa ok diventano grandi Mufasa che dice ah sento questa puzza nell'aria profuma e puzza di casa ok andate a cercare il vostro posto nel cerchio della vita che minchia significa nel senso che il re leone all'inizio dice taca è l'erede al trono taca è il futuro re però poi pigliano e se ne vanno anche se vabbè solitamente ragazzi i leoni maschi non credo che restino sempre nello stesso branco a volte appunto poi vanno a cercare di espandere il proprio territorio se non erro mettendosi contro anche altri leoni maschi proprio per la conquista del territorio quindi dal punto di vista naturalistico ci può stare è giusto poi trovano sti leoni bianchi si vedono i leoni ragazzi su una montagna innevata e c'è quel quadra che non mi cosa perché perché cioè a parte che all'inizio quindi c'è Rafiki che racconta questa storia a questo cucciolo bisognerebbe capire che cucciolo è di chi è perché ovviamente non si tratta di Simba sarà la figlia di Simba adesso che ci penso magari è chiara come si vedeva nel secondo film animato non è che poi magari questo è spunto per fare un altro live action del re leone 2 magari poi ci sono timone e pumba che sono già presenti quindi probabilmente sì probabilmente sarà la figlia di Simba adesso che ci penso in ogni caso quindi racconta questa storia racconta questa storia incredibile fantastica pazzesca anche se ci sono certi momenti ragazzi in cui si vedono timone e pumba nel bel mezzo dell'azione non lo so cioè ci sono tanti ed enormi punti interrogativi ragazzi che adesso mi stanno attraversando il cervello mi stanno facendo avanti indietro perché tante cose mi hanno lasciata perplessa sinceramente non so tanto che pensare poi succederà qualcosa ci faranno vedere tra l'altro magari cosa sarà successo fra Mufasa e Scar perché Scar lo odiava a morte ragazzi a tal punto da fare quello che ben sappiamo cosa porcaccia miseriaccia sarà successo fra sti due per far sì che Scar lo odi a tal punto quindi succederà suppongo perché qua Scar non è un villain ovviamente ci faranno capire perché poi si è trasformato in villain perché poi diventa antagonista perché poi ha questa cicatrice cosa che non si vede quindi è una cosa che avverrà alla fine non lo so da sto punto di vista sono un po' curiosa vi dirò sinceramente perché sono curiosa di sapere cosa cavolo saranno inventati per far diventare Scar un nemico un antagonista un villain perché ricordiamoci che il male di per sé da solo non può esistere che ci rivesta sempre una motivazione traumatica dietro per far sì che uno stronzo diventi uno stronzo quindi non si può nasce stronzi si diventa per forza stronzi perché sono tutti buoni capito all'inizio ma poi qualcosa ti sconvolge a tal punto da diventare stronzo altra piccola parentesi ragazzi di questi tempi che va alla grande con la Disney perché un villain deve essere per forza stato buono in passato e devono per forza avergli fatto qualcosa di orrendo e traumatico per farlo diventare un villain ci avete rotto i cabassisi pure con sta storia perché smettiamola di raccontarci questa favoletta che il male ragazzi non esiste di per sé perché è così il male esiste di per sé ci sono persone che magari ragazzi sono stronze e basta cioè ci sta poco da fa che sono malvagie e basta lo sappiamo cioè la storia anche ce l'ha insegnato quindi smettiamola con sta cosa sta cosa pure ragazzi mi ha allappato veramente tantissimo le balls diciamocelo vabbè altra piccola parentesi è incredibile perché ragazzi le reaction sul film live action della Disney mi escono veramente sempre molto lunghe perché hanno tanti spunti ovviamente che ci spingono a parlarne e quindi non so che dire ragazzi io non sono convinta per niente non sono convinta per niente di sicuro ripeto sarà un gran bel lavoro ma sta storia dei prequel live action buono cattivo diventato cattivo e te devo raccontare per forza qualcosa è un po rotto sinceramente quindi non so tanto che pensare non so tanto che pensare a riguardo non m'ha convinto effettivamente non m'ha convinto e non m'ha creato quella curiosità tale da dire sì lo andrò a guardare al cinema cosa che non credo che farò ragazzi probabilmente aspetterò che uscirà su Disney Plus per guardarlo direttamente lì in ogni caso ragazzi come sempre aspetto impazienti i vostri commenti qua sotto fatemi sapere a voi cosa ne è sembrato quali sono le vostre impressioni se siete curiosi o meno di andarlo a guardare questa reaction termina qui grazie a tutti un bacione e updash a tutti ragazzi da giocherina ciao ciao